L'invasione dei cappellini gialli, quelli del Calcit, è tornata nell'area Eden per la 62esima edizione del mercatino dei ragazzi. Questo è quello storico, quello principale, quello dove la città si riconosce, si vede dai tanti visitatori. Un'edizione record dal punto di vista dei visitatori e partecipanti, oltre 1.500 bambini che hanno preso parte all'iniziativa, ma non da quello dell'incasso, seppur sia stata raccolta un'importante somma, oltre 97.000 euro. L'incasso sarà interamente destinato all'acquisto di uno strumento per la chirurgia endoscopica. La prossima donazione è per la chirurgia ginecologica e la chirurgia generale, dottor Lelli e dottor Ceccarelli. È uno strumento che si chiama colonna laparoscopica per l'endoscopia chirurgica e veramente anche questo migliorerà molto quella che è l'appropriatezza e questo va nell'interesse sia dei medici che ovviamente possono operare meglio e dei pazienti che sono gli utilizzatori. Schierati assieme al calcit, anche gli arbitri che hanno portato tra i banchini il grande calcio è un importante contributo. A disposizione del comitato sono state infatti messe le magliette firmate dai giocatori del Napoli andate all'asta. Come ogni anno, infine, sono state consegnate a tutti i bambini che hanno preso parte al mercatino le medaglie del calcit realizzate dagli studenti dell'Isis Margaritone.